Ciao ragazzi e bentrovati su Fooddiciot Italia. Allora non era previsto un video oggi, però ci sono delle notizie veramente bomba che riguardano la Food Champions Weekend League. Allora se avete visto il video di settimana scorsa dove spiegavo come qualificarvi alla Food Champions grazie alle Food Division Rivals, quindi la nuova modalità di gioco competitiva settimanale che permetteva anche di acquistare l'accesso alla Food Champions, abbiamo un'enorme novità. Prima cosa, non c'è ufficialità di quello che sto per dire, ma tutte le immagini comparse sul web ci fanno immaginare questo, vale a dire che la Food Champions Weekend League quindi ciò che noi giocavamo nel weekend tra il venerdì e il lunedì mattina presto, quindi diciamo domenica erano 40 partite nel weekend da giocare, veramente tantissime. Attualmente invece tutto fa pensare ad una diminuzione a 30 partite ma vediamo perché, intanto ricordatevi di farmi sapere cosa ne pensate io sono contentissimo perché 40 partite non le ho mai fatte, sono arrivato massimo a 20-25 vuoi per gli impegni del weekend, vuoi perché ci vuole troppo tempo con tutti gli utenti che fanno dei replay eccetera eccetera comunque, tornando a noi, 30 partite invece di 40, questa potrebbe essere la novità da cosa lo deduco? Semplice, come potete vedere dalle immagini che scorrono le ricompense e le varie sezioni in cui noi possiamo arrivare con le varie vittorie quindi vari rank, sono diminuite le vittorie per accedere a le varie categorie di argento, oro e fuoriclasse infatti fuoriclasse 1 attualmente sono necessarie 30 vittorie in FIFA 18 al contrario in FIFA 19 saranno necessarie 27 vittorie per cui, considerando che la top 100 è un punteggio che verifica l'abilità dei giocatori, non solo le vittorie è una questione molto interessante e molto 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 plausibile altra cosa molto importante era il discorso qualificazione della FUT Champions Weekend League successiva perché? Semplice, perché precedentemente la novità era che con argento 1, quindi 11 vittorie noi ci qualificavamo automaticamente alla Weekend League successiva questo da metà anno in FIFA 18 il prossimo anno in teoria tocca utilizzare la FUT Division Rivals quale è la novità? È che attraverso la qualificazione e l'arrivo ad Oro 3 che ci dà come premio, oltre ai crediti, pacchetti, eccetera ben 2000 FUT Champions Point noi possiamo acquistare la qualificazione alla Weekend League successiva quindi interessante il fatto di 14 vittorie ci consente di acquistare la Weekend League successiva considerate che se non doveste arrivare a Oro 3 ma doveste arrivare a Argento 1 con i punti FUT Champions guadagnati sommandoli a quelli settimanali della FUT Division Rivals potreste comunque acquistare la qualificazione alla Weekend League successiva per cui è effettivamente molto interessante questa novità è molto interessante il discorso nuovo della competitività e penso che sia il top un miglioramento più grosso non ci poteva essere per la FUT Champions cosa ne pensate? fatemi sapere qua sotto commentate al video mi raccomando voglio sapere da tutti se siete d'accordo con me ad essere contenti ovviamente in attesa di eventuali ufficialità grazie per ascoltare la visione un saluto da Lucio e FoodShot Italia post scriptum iscrivetevi al canale ragazzi ciao ciao